Grazie Presidente e grazie ovviamente a tutti i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito. Ogni intervento è per me e per noi prezioso, sia gli interventi di chi ha condiviso la relazione programmatica di questa mattina, sia quelli di chi non l'ha condivisa. Gli interventi delle forze di maggioranza hanno ovviamente sottolineato una visione comune di governo, hanno ricordato il perché siamo qui, perché gli italiani ci hanno dato la loro fiducia. Alle opposizioni voglio dire che ho, come dicevo stamattina, sempre reputato utili anche le loro critiche, valso anche oggi. Io sono abbastanza d'accordo con Plutarco che diceva che gli avversari hanno una grandissima utilità perché loro provano a colpirti in ogni modo e nel farlo ovviamente ti aiutano a mettere a fuoco i tuoi punti deboli dove stai magari sbagliando cose che magari è più difficile dire per chi ti sta più vicino. Io non avrò mai timore delle parole franche, delle parole dirette, delle critiche anche insomma molto decise. Sono una persona che l'ha fatto in passato. L'ho fatto a lungo, non ho mai risparmiato nessuno, non è mai mancato rispetto da parte mia nei confronti dei miei avversari politici e non mi aspetto che l'opposizione oggi lo faccia con me. L'unica cosa che io chiedo, sono gli elementi sui quali un po' risponderò, è essere giudicata per quello che davvero dico, per quello che davvero penso, per quello che davvero ho fatto. Ci sono tante cose sulle quali mi piacerebbe rispondere, tante cose che mi piacerebbe dire. Io ho parlato già stamattina moltissimo e non farò una replica più lunga della mia relazione introduttiva. Mi limiterò a rispondere sulle questioni sulle quali penso che la lettura sia stata oggettivamente distorta o mistificata. O magari sono stata io che non sono stata brava a spiegarmi o magari alcuni avevano scritto il loro intervento prima di sentire la relazione, alcune cose rimangono in qualche maniera in evase. Allora, vado per punti, anche se ovviamente temo che non sarò esaustiva, mi scuseranno coloro ai quali non risponderò direttamente. È stato detto, ad esempio, che quando si è dato vita al Next Generation EU e al PNRR c'era chi rimava contro. Non mi risulta. Mi risulta, perché questo dice la storia ed è verificabile, ringraziando Dio come tutte le cose, che noi abbiamo sostenuto, proprio perché era una proposta che veniva dal centrodestra, come dicevo anche stamattina, l'emissione di debito comune per far fronte a una crisi come quella pandemica, abbiamo dichiarato che sostenevamo quel meccanismo, non abbiamo mai votato contro a quel meccanismo, ci siamo astenuti per alcune ragioni specifiche che abbiamo motivato. Ci siamo, per esempio, astenuti in quest'Aula, colleghi, perché, come ricorderete, le 370 pagine di relazione con le quali si impegnavano 250 miliardi di euro che avrebbero, ovviamente, deciso le sorti dell'Italia nei successivi anni, arrivavano a un'ora dall'inizio della discussione. E io dissi allora che eravamo troppo responsabili per impegnare 250 miliardi di euro senza sapere su cosa li stessimo impegnando, ma questo lo dico anche per garantirvi che domani non accadrà con questo governo che voi dobbiate trovarvi a votare cose che non avete letto. Perché il Parlamento deve avere riconosciuto il suo ruolo. Abbiamo delle volte, sì, fatto chiarezza su alcune cose che si dicevano rispetto al PNRR che secondo noi non erano corrette, come il fatto che l'Italia doveva ringraziare di aver avuto più risorse di tutti gli altri per l'autorevolezza del governo che aveva fatto la trattativa. Chi conosce la norma sul Next Generation EU sa che le risorse vengono distribuite sulla base dei principali fattori macroeconomici. E quindi la ragione per la quale l'Italia aveva preso più risorse degli altri, oltre a essere l'unica grande nazione dell'Europa occidentale che ha utilizzato fondi a debito, era che i fondamentali della nostra economia erano peggiori di quelli degli altri. E quindi abbiamo potuto vantare maggiori risorse. Non ero d'accordo e non siamo stati d'accordo quando qualcuno raccontava le risorse del PNRR come soldi che piovevano dal cielo, perché le ricordiamo le prime pagine dei giornali. 122 miliardi di euro noi riprendiamo a debito, li ripaghiamo, e i rimanenti 68 a fondo perduto, nello stesso periodo, nei 7 anni in cui queste risorse vengono distribuite, noi allo stesso fondo diamo 34 miliardi di euro. E' la ragione per la quale queste risorse devono essere spese con la massima efficacia possibile. Ed è la ragione per la quale io non capisco la tesi di chi dice niente è possibile toccare, come se noi non ci rendessimo conto che con l'aumento dei costi delle materie prime, se noi non affrontiamo questo tema, banalmente le gare che devono mettere a terra quelle risorse andranno deserte. E' proprio chi vuole spendere quei soldi, si pone il problema di come si possano spendere nel migliore dei modi. Ho sentito dire che noi consideriamo colpevoli i percettori di reti o di cittadinanza, che loro sono il problema, io non ho mai considerato il problema i percettori di reti o di cittadinanza. Ho considerato a volte un problema una classe politica che si accontentava di tenere persone in difficoltà, in quella condizione di difficoltà, pur di farci cassa elettorale. Non ne ho fatto mistero. Ho detto che occorre ragionare su un sistema che evidentemente ha avuto dei problemi e che non funziona, in cui, notizia di ieri, il navigator fa in media non più di un colloquio di lavoro al giorno. Sapete perché? Amartya Sen, premio Nobel per l'economia. Amartya Sen, premio Nobel per l'economia, diceva sulla povertà una cosa importante. L'aveva conosciuta, l'aveva conosciuta da vicino, diceva la vera povertà non è la mancanza di soldi. La vera povertà è la tua impossibilità di migliorare la condizione nella quale ti trovi, che è data da quello che ti circonda. Quando noi abbiamo detto, parlando ad esempio al Mezzogiorno d'Italia, la nostra soluzione per il Mezzogiorno d'Italia è il reddito di cittadinanza. Il messaggio che abbiamo dato a quelle persone è non posso migliorare la tua condizione, posso mantenerti in quella condizione, ma lì rimarrai. Allora io penso che una persona che nasce in difficoltà e che si trova in condizioni di povertà non debba solamente sopravvivere, debba se ha uno Stato che l'aiuta a ambire, a diventare benestante. Questo è il tema. E questo si fa con il lavoro. Si fa mettendo le persone nella condizione di dare quello che hanno, di mostrare quello che valgono. Ma ovviamente, lungi dal considerare quelle persone, per questo parlavo di sconfitta oggi, come un problema. Sono le risposte che sono state date, a mio avviso, inadeguate, il problema del quale abbiamo sempre parlato. Ho sentito dire che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini. Mi guardi, onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini? Non so da che cosa lei abbia vinto questa lettura, ma le devo dire che non la condivido. Non so da che cosa lei abbia vinto questa lettura, ma io stamattina ho parlato di lavoro, di welfare, di una società che non costringa a scegliere tra lavoro e maternità. Certo, ho parlato anche di natalità, certo, ho parlato anche di famiglia. Sa perché? Perché io considero sì una sconfitta che una donna debba rinunciare a lavorare per avere un bambino, ma considero altrettanto una sconfitta che una donna debba rinunciare ad avere un bambino per lavorare. Quindi, quando si dice di aiutare la famiglia e la natalità, lo si fa per garantire piene libertà. È la sfida, è una sfida sulla quale immagino che siamo d'accordo. Spero, no? Io chiedo libertà totale, concreta, reale. Perché io sono una privilegiata, sono una madre e sono una privilegiata. E se è così difficile per me mettere tutto insieme, e beh, ancora di più mi rendo conto di quanto sia difficile per tutti gli altri che non hanno i miei e i suoi e i nostri privilegi. Lo capiamo tutti. E allora questa è la domanda... Sì, chiedo scusa, mi rivolgo alla presidenza. E quindi penso, sì, sì, penso. Posso guardare però? Posso guardarvi? Ok. Non cito, guardo. Dicevo, quindi, penso che le cose si debbano giudicare per il merito... Buon. Che si debbano giudicare per il merito. Poi certo, magari abbiamo delle priorità diverse. Si è fatta polemica il presidente, la presidente. Su questo abbiamo un'idea diversa. Io non ho mai considerato che la grandezza della libertà delle donne fosse potersi far chiamare capa trena. No, io ho pensato che fossero cose più concrete, quelle sulle quali bisognava lavorare e per le quali bisognava battersi. Punti di vista. Punti di vista. Priorità. Ma non dubitate. Non dubitate voi. Non dubitino le donne italiane. Non hanno decisamente nulla da temere con questo governo. E, presidente, vorrei dire all'opposizione che io sono convinta che in cuor loro non lo pensino neanche loro. Dopodiché, si è parlato di mafia. Ci sono molte cose da fare su questo e sono contenta che sia un punto sul quale c'è stata molta condivisione. La criminalità mafiosa si combatte, ad esempio, e su tutto, dal mio punto di vista, colpendo i proventi dell'attività illecita, rendendo le risorse sottratte ai clan disponibili per scopi sociali e istituzionali. Oggi la frontiera del contrasto è, a mio avviso, principalmente questa. Togliere ai clan e finalmente fare in modo che la villa del boss diventi una stazione dei carabinieri o una scuola materna. Oggi larga parte di quei beni non sono utilizzabili. Ci vogliamo lavorare insieme. Spero che vorremmo lavorarci insieme. Spero che si possa lavorare insieme nei prossimi giorni, ad esempio, parlando di cose concrete, per impedire che venga meno uno degli istituti che sono stati più efficaci contro la mafia, che è il carcere ostativo. Spero che su questo ci si voglia dare una mano, perché sono d'accordo. La questione della lotta alla mafia non è un tema di retorica, è un tema che si affronta con provvedimenti concreti. Voglio dire al collega Suamoro, Sumaoro, scusami, che tutti ci sentiamo scolari della storia, sai? Altrimenti saremo ignoranti, saremmo ignoranti del presente, saremmo senza futuro. non ho dato del tuo a nessuno. Ah, vorrei dire, chiedo scusa all'onorevole collega. Va bene, va bene, va bene. Ah, era il sai, scusa. Ha ragione, sai, sai. Ha ragione, ha ragione. Avete ragione, errore mio, calmi. Chiedo scusa. Ma succede nella vita di sbagliare, basta saper chiedere scusa quando accade. Sono d'accordo con buona parte di quello che ho sentito dire dal collega. Il patriottismo non può non essere anche solidale, perché il principio di solidarietà insieme al principio di sussidiarietà è un fondamento della nostra Costituzione. Come stamattina dicevo, che ritengo una vergogna ad antisuicidi in carcere, ritengo una vergogna anche lo sfruttamento in nero dei migranti in agricoltura. Ci sentiamo impegnati a dare risposte su queste. E forse il tema dell'immigrazione è esattamente questo. Per anni ci è stato detto che l'immigrazione illegale di massa, non controllata da adeguati flussi, serviva perché gli immigrati avrebbero fatto lavori che gli italiani non volevano fare. Sarebbe stato un principio sbagliato. Io penso che se accogli qualcuno nella tua comunità, non lo accogli per essere un lavoratore di serie B, lo accogli per dargli la stessa vita che vuoi dare ai cittadini italiani. Ed è la ragione per la quale i flussi vanno governati, perché questo si riesce a fare se ovviamente, fermo restando, il tema dell'asilo. Dicevo stamattina e ribadisco che non c'è alcuna volontà di modificare, mettere in discussione il diritto di asilo, che per me è assolutamente sacro. parliamo di immigrazione, di immigrazione che in questi anni non è stata gestita. Il risultato di non gestire quei flussi migratori è che qualcuno ha considerato solidarietà a far entrare in Italia centinaia di migliaia di persone e poi non farsi il problema che molte di queste persone finivano a spacciare droga nelle strade o nelle mani della prostituzione. Questo accade quando non si gestiscono i flussi. E io dico anche di più, io penso anche qualcosa di più. Penso che la verità del rapporto tra immigrazione e lavoro non fosse, come ho detto tante volte, perché non ho cambiato idea su niente, signori, purtroppo, io penso che la verità del rapporto tra immigrazione e lavoro non fosse che i lavori che gli immigrati facevano lavori che gli italiani non vogliono fare. Penso che la verità sia che li fanno a condizioni che gli italiani non sono disposti ad accettare. Il che significa anche, come abbiamo detto molte volte, che spesso l'immigrazione illegale di massa è stata utilizzata come uno strumento nelle mani delle grandi concentrazioni economiche per rivedere a ribasso i diritti dei lavoratori. Anche quella non la considero solidarietà. continuo a ritenere che l'immigrazione vada governata e che per quello che riguarda ovviamente il diritto d'asilo si possa e si debba fare, come dicevo stamattina, una distinzione per stabilire e riuscire a fare un piano europeo, una missione europea che ci consenta di aprire gli hotspot in Africa governati dalla comunità internazionale, di valutare le richieste e poi di distribuire equamente i profughi nei 27 paesi dell'Unione Europea. Sul piano per l'Africa si è detto che c'è già stato ma allora forse non è lo stesso piano per l'Africa che ho in mente io. Parlo da tempo con diverse associazioni di patrioti africani e ogni volta che mi è capitato loro hanno detto una cosa che qui non cita mai nessuno. Anche loro non se ne vogliono andare da casa loro. Cioè quel diritto del quale si parlava stamattina di lottare di combattere la fuga dei cervelli italiani vale per gli italiani io credo debba valere anche per l'Africa per gli africani per tutti quelli che non vogliono lasciare la loro terra la loro identità le loro famiglie vogliono e chiedono aiuto per sviluppare il loro futuro e crescere nella loro comunità. autonomia mi dispiace che sto andando senza un filo conduttore ma cerco di rispondere a più cose possibile sulle autonomie faccio una parentesi ovviamente il riferimento specifico a Bolzano non era il tentativo di creare una gerarchia tra questa e le altre autonomie o di diciamo non avere adeguato rispetto per le altre io sono assolutamente dell'idea che tutte le regioni e le province a statuto speciale vadano difese e mi dispiace se diciamo la formulazione della frase può aver tradito un'altra lettura. Si è detto che il merito nell'istruzione sarebbe nemico dell'uguaglianza non sono d'accordo e è esattamente questo che cerchiamo su questo che cerchiamo di invertire la rotta rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni sulla impronta progressista che è stata data anche alla scuola italiana che si dava come obiettivo quella di livellare nel punto di arrivo per avere la certezza che ci fosse uguaglianza ma quella non è uguaglianza uguaglianza è merito non sono uno avversario dell'altro uguaglianza e merito sono uno fratello dell'altro l'uguaglianza va garantita nel punto di partenza cioè tutti devono avere e questo ovviamente lo deve garantire la scuola pubblica come lo deve garantire in altri versanti in altri ambiti la sanità pubblica ma nella scuola pubblica tutti devono avere le stesse possibilità indipendentemente dalla famiglia nella quale nascono dalla città nella quale nascono indipendentemente dalle loro condizioni di partenza tutti sulla stessa linea di partenza ma non tutti sulla stessa linea d'arrivo dove arrivi quello deve dipendere da te nel momento in cui tutti hanno le stesse opportunità perché altrimenti certo che non esisterà alcuna uguaglianza se le persone che potrebbero crescere più delle altre anche non venendo da un contesto familiare favorevole non possono andare oltre un certo tetto che è stato posto sopra la loro testa credo che questa sia la sfida tutti devono poter avere e arrivare ovunque questo vuol dire prego figuriamoci io penso che questa sia la base per combattere una società nella quale il tuo destino perché l'Italia diciamoci la verità questo problema lo ha avuto in cui per buona parte il tuo destino è segnato dalla famiglia di provenienza o dalle amicizie che hai io non voglio una nazione nella quale il destino delle persone si decide in base alle amicizie o alle famiglie io voglio una nazione nella quale il destino delle persone si decide in base al loro valore ed esclusivamente in base al loro valore sul sud la nostra attenzione sarà massima il tema della discussione sulla delega sui porti non esiste se non nelle osservazioni delle opposizioni anzi noi abbiamo scelto di istituire un ministero appositamente dedicato al mezzogiorno di legarlo a un altro tema fondamentale che è quello delle politiche sul mare perché questo dal nostro punto di vista è un asset nazionale strategico che non è mai stato valorizzato come avrebbe dovuto mi pare un tentativo di allargare le possibilità di sviluppo ecco di credere nelle possibilità di sviluppo indipendentemente dal tema come dicevamo del tipo di assistenzialismo che si riesce a fare così come è stato detto del ministero della transizione digitale non disperate insomma non voglio voglio tranquillizzare tutti il dipartimento per la transizione digitale sarà ed è esattamente al suo posto sarà affidato un sottosegretario alla presidenza del consiglio e quindi non perderà neanche un minuto del lavoro che è stato fin qui fatto e anzi lo rilanceremo ancora di più perché il tema della transizione digitale sapete meglio di me impegna importantissime risorse nell'ambito del PNRR e ovviamente faremo quello che va fatto qualcuno ha detto che una tassa piatta sarebbe in contrasto con il dettame costituzionale della progressività io penso che però sfugga che nel sistema fiscale italiano la tassa piatta è già prevista in diversi casi le imprese soggette a IRIS già pagano una liquota fissa del 24% sul reddito delle persone fisiche sulle rendite finanziarie viene applicata una liquota fissa del 26% e mi corre l'obbligo di ricordare che la tassa piatta o se si preferisce l'imposta fissa di 100.000 euro che sostituisce per 15 anni l'IRPEF sui redditi prodotti all'estero per gli iper milionari stranieri che trasferiscono la residenza in Italia è stata introdotta proprio dal Partito Democratico il problema invece sembra l'estensione da 65 a 100.000 euro per i lavoratori autonomi che rientrano nel regime forfettario e vado verso la chiusura per parlare e parliamo un minuto di Europa allora qui ho sentito dire un po' di tutto avete cambiato pagina non dite le stesse cose sono contento che abbiate scoperto l'Europa ma non è possibile che rispetto o no a questo tentativo continuo di dire che siamo noi che avremmo cambiato idea perché poi invece dall'altra parte si dice la Meloni non indietreggia su nulla per cui qualcosa non torna in questi racconti non sarà magari che è il racconto che è stato fatto su di noi su quello che credevamo su quali fossero realmente le nostre posizioni che è stato un tantino forzato nel tentativo disperato di costruire l'immagine del mostro e una volta che diventa difficile dimostrare che quel mostro esiste si deve inventare che il mostro ha fatto una svolta guardate vi dirò come la penso nel sistema italiano le svolte sono sempre state delle giravolte non ve ne aspettate da noi per cortesia perché non siamo persone abituate a fare giravolte è l'Europa quello che sentivo il collega Maggi dire lei chiede parla dell'energia di quello che l'Europa non ha fatto quello che sfugge secondo me ad alcuni è che per credere in una aggregazione o integrazione europea non si debba per forza essere federalisti o qualcuno vuole sostenere la tesi che De Gaulle fosse un nemico dell'Europa perché ci sono ipotesi diverse che in un mondo normale farebbero parte di un dibattito che cosa sostengo io sostengo che l'Europa abbia per paradosso si sia per paradosso occupata di tantissime materie che avrebbero dovuto essere lasciate alla competenza degli stati nazionali quelle più prossime alla vita dei cittadini e abbia mancato sulle grandi questioni strategiche e quindi credo che un'Europa che voglia essere forte soggetto politico forte soggetto strategico forte dovrebbe fare diciamo fare meno e farlo meglio non occuparsi di tutto non entrare in tutti i nostri ambiti di organizzazione guardi è scritto nei trattati principio di sussidiarietà non faccia Bruxelles quello di cui si può meglio occupare Roma non faccia Roma da sola quello per cui serve Bruxelles è esattamente questo il tema che vi ho posto questa mattina ma noi possiamo dirci che su questi temi l'Europa è sempre stata presente energia materie prime catene del valore scusate adesso ci arriviamo ci arriviamo anche qui ci arriviamo non si preoccupi io sono una persona che risponde guardi non ho bisogno non sono abituato a nascondermi materie prime energia catene del valore catene del valore noi non controlliamo più niente in Europa questo è un grande tema che secondo me va portato all'attenzione dell'Unione Europea noi ce ne accorgiamo oggi col tema energetico ma non è l'unico tema quando c'è stata la pandemia e noi avevamo diciamo completamente consegnato all'Asia tutta la produzione dei semiconduttori e dei chip è arrivata la pandemia la Cina ha deciso di chiaramente dare la priorità al mercato interno e noi ci siamo trovati con intere catene del valore che non camminavano più è un tema secondo me è un tema ma quello è sì un tema che per alcune materie si affronta anche a livello nazionale per altre materie si affronta a livello europeo per altre materie si affronta secondo me a livello di friend shoring cioè con le nazioni alleate o di near shoring ma è un tema su tutto questo a me pare che l'Europa abbia perso dei treni e guardate non per i sovranisti colleghi perché comunico che non sono i sovranisti che comandano in Europa e scusate anche qui noi citiamo sempre Orban si cita sempre Orban ma cioè l'atteggiamento che io comprendo dal punto di vista diciamo della difesa interesse nazionale l'atteggiamento della Germania di queste settimane come lo chiamiamo quello? Quello è europeismo? Perché vede la materia della politica estera la materia europea è un po' più complessa di come viene raccontata spesso in quest'aula anche quella delle alleanze le due cose non stanno insieme tra Macron e essere i presidenti dei conservatori europei beh se non stessero insieme probabilmente il presidente Macron non avrebbe incontrato il presidente del Consiglio Italiano ma per le persone diciamo che fanno politica queste materie si affrontano in modo diverso io non devo fare nessuna scelta colleghi del PD scelga io non devo fare nessuna scelta perché la mia scelta l'ho già fatta da tempo e la mia scelta è sempre e solo difendere l'interesse nazionale italiano non farò mai la cheerleader di nessuno non farò mai la cheerleader di nessuno è questo che non si riesce a capire e questo ovviamente comporta relazioni diffuse un piano politico e un piano di governo e comporta comprendere che le nazioni con le quali ci si confronta saranno sempre nazioni che in ragione della loro storia e della loro identità non avranno esattamente la nostra stessa visione la politica estera non si taglia con l'accetta dal mio punto di vista è un tema sul quale bisogna avere la lucidità di chiedersi da dove si vuole partire c'è chi ha deciso di partire dal tema del posizionamento internazionale e c'è chi decide di partire dal tema dell'interesse nazionale questa è una grande differenza io comprendo la vostra vi chiedo di comprendere la mia e anche qui è chiudo davvero su aborto diritti anche qui ho sentito dire non le crediamo lei ha usato parole chiare ma non le crediamo forse la mia idea di politica non è la stessa di altri perché penso non si possa negare che per tutto il mio percorso politico io mi sono assunta sempre la responsabilità di dire quello che pensavo l'ho pagato quando lo dovevo pagare perché la politica alla fine la storia la verità la tirano fuori e quindi non conviene mentire altri preferiscono diciamo essere dei follower in politica si guarda che cosa vuole che la gente che si dica e dicono esattamente quello io ho sempre detto quello che pensavo se dico che non voglio fare una cosa banalmente non la farò se la voglio fare banalmente lo dirò credo che ci si debba fare i conti perché accetto ovviamente di essere criticata su quello che dico e che faccio realmente ma non di essere criticata sul fatto che non sarei una persona sincera perché credo che questo davvero non si possa in coscienza sostenere per la storia di fratelli d'italia e per il lavoro che abbiamo fatto in questi anni non ho bisogno di convincere le persone che sono una persona che dice la verità ma comunque su questo ovviamente convinceranno i fatti perché in fin dei conti come dicevo mi interessa il giudizio della maggioranza ovviamente dei partiti della maggioranza dei colleghi della maggioranza mi interessa anche il giudizio dei colleghi dell'opposizione anche se si tradisce sempre il tentativo di voler dare una legittimazione come se ci fosse sempre qualcuno che vale più di qualcun altro non sono i partiti a dare la legittimazione l'uno all'altro sono i cittadini che danno la legittimazione ai partiti in politica e penso che forse dovremmo interrogarci e concludo penso che dovremmo interrogarci anche su questo io ho apprezzato il dibattito di oggi perché è stato un dibattito franco come Franca sono abituata ad essere io ma è stato anche un dibattito molto corretto insomma è stato un dibattito rispettoso composto spero che continuerà perché quello che forse noi non abbiamo sempre capito è che questo tentativo di delegittimare l'avversario alla fine ha finito per indebolire tutta la politica e quando la politica è debole sono altri che diventano forti ma quegli altri a differenza della politica molto spesso non hanno la legittimazione popolare per cui dialogare con il proprio avversario riconoscendolo come avversario anche dialogare con forza e anche insomma con vemenza io ripeto l'ho fatto non è una cosa che mi spaventa ma riconoscendo che in quel soggetto in quel partito in quella realtà c'è una legittimazione che viene dalla democrazia di questa nazione non serve a quell'avversario serve alla credibilità delle nostre istituzioni serve al ruolo della politica un ruolo a cui la politica ha per troppo tempo abdicato e che oggi vogliamo contribuire a restituirle credibilità per la politica credibilità per le sue istituzioni credibilità per questa nazione grazie grazie grazie